la vita se lo ricorda? sì sì perfettamente tutti i primi applausi e li ricordo sono in verità tre il primo riguarda il mio mestiere gli altri riguardano diciamo altre due attitudini e possono non interessare io ho cominciato insieme a Gabriella Ferri insieme ad altri artisti non avevamo successo abbiamo fatto anche un cantagiro facevamo parte del girone folk io voglio